Bene, buongiorno a tutti, io sono Francesco Fusillo, spero che mi vediate, stavo orlando in questo momento da Verona, grazie alle nuove tecnologie. Ringrazio CTS di avermi invitato a questo incontro di formazione e divulgazione perché come dire, io sono una voce un po' stonata nella panoramica delle conversazioni sull'inclusione perché parto da alcuni paletti. Mi presento, chi sono? Sono un insegnante di sostegno come voi, sono stato a scuola fino adesso, sono parte del centro territoriale di Verona e mi occupo dal 2009 di software libero, cioè io ho sempre lavorato più o meno con le tecnologie ma non le ho mai sentite amiche finché non ho incontrato degli applicativi che mi permettessero di mettere in circolazione della didattica. Collabora col centro nazionale delle ricerche da allora e abbiamo sviluppato delle soluzioni che vedrete nella di positive che vi farò vedere qui fra un po', per cui fra un po' tiro via l'immagine mia per poter entrare subito nel merito. Pubblico online quasi tutti i miei materiali in Creative Commons e adesso vi saluto, vi lascio perdere la mia faccia e vi mostro i materiali che preferisco essere strumenti e spero che diventino anche i vostri strumenti di lavoro. Cominciate a vedere la condivisione in questo momento e vi condivido le pagine web. Allora intanto per iniziare questa presentazione che andrò a raccontare didattica, inclusione e opportunità del software libero e operazioni inclusive è già online, la trovate sul mio sito, il mio sito è questo www.francesco-fusillo.it, potete scaricarla, utilizzarla, divulgarla e anche utilizzare tutti i materiali contenuti. Cliccando qui la scaricate in temporale potreste vederla al pari della mia presentazione e da questo clic andate al sito dell'Indire dove trovate altri materiali miei materiali che possono essere utili sia nel vostro lavoro quotidiano sia nella divulgazione con i colleghi dei quali diventerete coordinatori. Francesco, qua mi chiedono se procedi un pochino più lentamente perché stai andando un po' troppo veloce. L'indirizzo del sito, questo mio sito è un pozzo di attività, materiali, collegamenti, download, software, video guide, webinar fatti in giro per l'Italia, il CNR, le università, master, c'è di tutto. Quello che sono io è qui dentro. C'è anche il collegamento al mio canale YouTube e sono molto contento perché è tutto un materiale scolastico, vissuto, creato, non inchiuso in un laboratorio del provo di torato ma in classe la mattina con i ragazzi e divulgato. Sono molto contento perché il mio canale YouTube ha 120.000 visite, mettere 120.000 visite con robe di scuola è difficile, si riesce meglio con le donne nude, con la scuola si fa poco i soldi e anche visite. Comunque torniamo a SRSERI, questa è la presentazione che io vi propongo e... ah no, torniamo un attimo al sito. Questo è il sito mio, perché lo mostro? Perché qui dentro potete scaricare da questo sito potete scaricare tutti i materiali che vi racconto qui dentro. E anche chi è interessato a raccogliere dei materiali per la sua attività, materiali sotto forma di videoguide, tutorial, percorsi didattici, vedete video lezioni, dispense digitali. Io non pubblico praticamente niente sulla carta, pubblico tutto sul web e le mie dispense sono interattive. Praticamente se parlo di un software si clicca, si scarica il software e si vede la video lezione. Andiamo a parlare di software libero e didattica. Perché io ho proposto ai colleghi del CTS e ringrazio per avermi dato questo incarico, questo argomento? Perché, come dicevo prima, cercheremo di far diventare le nuove tecnologie amiche del nostro mestiere. E le nuove tecnologie non sono amiche di default, le nuove tecnologie sono un castigo divino se non le sai usare, mettere al loro posto, ti si rivoltano contro e ti fanno lavorare di più. Alcuni o le abbandonano o comprono le cose già fatte da chi le vende già fatte pur di cavarsi dai piedi. Ma almeno se io so quali sono i paletti che devo utilizzare, vado abbastanza bene. Adesso, che significa software libero? Vedete queste due immagini. Uno è un sistema operativo che raccoglie tutto il software che serve alla scuola per far scuola. Mondo Linux. Si installa al posto di Windows e si mette in fianco a Windows e si ha un computer perfettamente allestito per la didattica. Però non c'è mica bisogno di diventare amanti di Linux. Gli stessi software si possono trovare per il mondo Windows e li ho inseriti in questo kit PCDSA che è quella raccolta di cui adesso racconterò qualcosa. Allora, non parlerò di software ma di filosofia adesso perché le scelte si fanno se c'è un pensiero sotto. Il pensiero fondamentale è questo, l'uguaglianza, le pari opportunità e la partecipazione. Bene, è un riferimento importante perché se c'è questo riferimento allora le scelte saranno conseguenti. Non sarà la prima scelta di strumento che mi viene proposto, magari bello, magari efficace, magari efficiente, ma se non mi permettere alle persone di lavorare assieme, di creare partecipazione a vari livelli, quello strumento sarà bello, sarà lucido, ma non mi va bene. Quindi, come dire, questo è il primo paletto. Secondo paletto, l'inclusione. Non so se avete notato questo tavolo di lavoro, questo è da Milani e la scuola di Barbiana. Secondo me questo è il riferimento al quale voi troverete dentro ogni diapositiva del mio lavoro, perché la tecnica è semplicemente la messa in pratica di un'idea. Un'idea di scuola dove c'è il bambino e quello che va a fare la maturità che studiano sulla stessa cosa con livelli diversi. Per fare questo transito di circolazione di conoscenze ci vogliono degli strumenti liberi. Questo tavolo qua è il tavolo che sta dentro l'immagine di su di Linux, le persone che lavorano attorno. Tutti gli applicativi che ci sono qua sono circa 140, è il sistema operativo che li uso da sempre e tra l'altro lo sviluppo io sì che lo conosco anche benino. Non c'è un applicativo esercitativo, è tutta didattica che si costruisce con i ragazzi e si costruisce in classe. Però adesso vado avanti perché ho poco tempo, parlando un po' di chi sono i ragazzi oggi e cosa poter fare. Allora in questo mio intervento io parlerò delle scelte fondamentali e vi darò in mano proprio gli attrezzi. Voi potrete scaricarvi gli attrezzi, gli strumenti, gli applicativi gratuiti per poter installare sulle vostre macchine PC, Linux, Windows e Mac le cose che servono. E poi in una diapositiva ci sono le proposte per quel che riguarderà la parte più operativa. Un'osservazione però va fatta sui bambini d'oggi. I bambini d'oggi non sono quelli di ieri, sono già bambini che ragionano con un atteggiamento esplorativo, sono fiduciosi, sono molto aperti, credono poco nella carta stampata e si stufano. Si stufano a morte in classe. Lì ci sono insegnanti di scuola primaria? Ci siete? Guarda qui ci sono, Francesco ci sono insegnanti di tutti gli ordini e i gradi. Bene. Allora gli insegnanti di scuola primaria potranno confermarmi che la parola scritta non ha più l'interesse che aveva la parola scritta dieci anni fa. Oggi i bambini si stufano a morire a scuola, se non gli diamo la possibilità di ingaggiare una guerra con la conoscenza che li mette in prima persona. E i nostri ragazzi destinatari dell'inclusione sono gli uguali. Anche loro hanno lo smartphone, anche loro a fine pizza con i genitori si mettono a giocare con smartphone, down, autistici o non autistici, a parte i gravi, possono sicuramente usare tecnologie. Ma come? Allora noi che siamo gli insegnanti dobbiamo sicuramente partire con qualche azione e mettere in piedi qualcosa, ma che non sia fare qualcosa di vecchio con strumenti nuovi. Fare qualcosa di nuovo con strumenti nuovi. È un'opportunità epocale quella che abbiamo di fronte ragazzi. Adesso troverete ogni tanto questa immaginetta di Pinocchio. Perché Pinocchio? Perché c'è tecnologia e tecnologia. Bene, io questa tecnologia la odio, non la voglio. Non voglio bambini che giocano a clic sui davanti ai software, non voglio bambini che non dialogano, non voglio bambini che diventano competitori uno rispetto agli altri, che sgomitano, che calpestano gli altri per di essere primi. Non mi servono questi bambini qua, ne abbiamo già abbastanza. Perché tutto il mondo che abbiamo attorno è così. Facciamo molta attenzione a quello che usiamo. Questo voglio dire. Ho molta paura di questa tecnologia. Perché mette i bambini soli a lavorare. Ho paura di lavagne interattive usate come espositori o proiettori. Meglio il libro che facevi poche pagine al giorno. In una presentazione di 5 minuti ci può stare tutta la didattica di un anno. 10 minuti di un Ulisse e di Piero Angela possono avere tante di quelle informazioni da stonare la testa di ognuno. Quindi, qua ho elencato alcune cose che non ci sono da fare con le nuove tecnologie. È pericoloso usarla così. Però abbiamo un'enorme opportunità oggi. Oggi a scuola le tecnologie ci permettono queste cose qua, che non ci permetteva la lavagna. Noi chiudevamo la porta dietro di noi, insegnanti di sostegno o no. E non potevamo documentare quello che avevamo fatto, in modo che i bambini potessero rivederlo con calma. Non potevamo usare più media, aggiungere il parlato, aggiungere una foto, aggiungere un pezzo di audio alle cose che facevamo con loro. Non facevamo mappe concettuali. Mettevamo la conoscenza come nel rosario, una dopo l'altra, analogicamente. Non avevamo possibilità di simulare la realtà. La dovevamo raccontare a parole. Chi aveva rappresentazione e capacità di capire la parola scritta o parlata, bene, gli altri no. Oggi possiamo essere autori, editori, possiamo scrivere libri, testi, raccontarli e metterli online. Possiamo comunicare a distanza, giocare e imparare e, questa è una cosa eccezionale, condividere i nostri lavori sul web. Vale a dire, il ragazzino a casa può vedere quello che è stato fatto a scuola. A proposito, sto videoregistrando questo intervento che troverete sul mio sito e sul sito del CTS per poter recuperare le cose che vi sono sfuggite. Ecco un esempio di un uso di nuova tecnologia. Nei vostri confronti uso il rispetto di persone che mi ascoltano in 30 minuti e che dico tutto quello che dovrei dire in un corso di aggiornamento di più ore. Sono già le 5.20. Quindi capite, questa è la nuova tecnologia che mi piace, però per fare questo, e posso usare più linguaggi, ho bisogno di software amici. Non software belli da vedere, che costano, che non posso distribuire, che creano profitto a chi me li dà e che non posso creare dialogo fra i ragazzi perché hanno tutte versioni diverse gli uni dagli altri che si bloccano ogni volta che non hanno la versione identica a me o a te. Qua vedete dei box senza immagini, perché su internet non trovate le immagini libere neanche di questi software, che sono software, questo è per la LIM, questo è per la comunicazione aumentativa. Ho trovato questi tre loghi della Apple e della Windows perché su Wikipedia la pagina l'hanno fatta sia la Apple che la Microsoft e hanno messo un'immaginetta. Il software libero è gratuito, lo posso distribuire, vedete il LibreOffice. È longevo, non ha scopo di profitto, viene sviluppato nelle università, nei centri di ricerca. S'ancora è sviluppato dal ministro francese della pubblica istruzione per le lavagne interattive. A Raw World l'abbiamo preso da un progetto europeo, l'abbiamo sviluppato noi col gruppo di Sode Linux, l'abbiamo migliorato con un progetto di CTS e quello che è importante è che si può distribuire ai ragazzi. Quindi io posso fare una cosa e farla transitare fra casa, scuola e far lavorare loro. Adesso vado veloce perché non ho tempo, però voglio dire questo, dobbiamo rompere un certo modo di far scuola. Ogni ragazzino dovrebbe sentirsi editore, giornalista, disegnatore, fisico, webmaster, regista, anche disabile. Se mettiamo attorno ai ragazzi a un tavolo e lavoriamo, non così, in modo frontale che è tanto come prima, è peggio di prima perché l'anima è uno strumento pericoloso secondo me, ma così, in mezzo a loro, allora troviamo un luogo per ognuno. Dove si coopera? Dove posso dare un software uguale per tutti? E qua è un discorso che vado veloce perché non c'è tempo, ma dietro all'uso delle tecnologie c'è il piano inclusivo di classe, che non è il PDP e non è il PAY, è la progettazione a settembre, dove si pensano delle azioni da fare che includano questi discorsi e questi linguaggi. Non si può per strada arrivare, se no l'insegnante di sostegno resta per strada, perché arriva ed è un appiccicaticcio del sistema che va avanti. Perché io ho sentito un sacco di convegni che si parla di qualità, di valutazione dell'inclusione, di questo e di quell'altro e poi nessuno che dice cosa si deve fare domani mattina alle 8. Io non l'ho mica ancora sentito, adesso io spero di dire questo. Le opportunità. Sode Linux, per chi vuole installare software già allestito in macchine anche di 10 anni su tutti i PC, fino al 2006. Sode Linux usa le macchine con molta parsimonia, ha un'interfaccia che sembra un Mac, qui c'è il menu dal quale discende da tendina, abbiamo tenuto la barra di XP e dentro c'è il software libero identico al mondo Windows, che scaricate da qua, ho creato questa roba che si chiama Kit PC DSA, è un allestimento software per creare didattica in classe. Che significa creare didattica? Quello che ho detto prima, avere i software per fare tutte quelle cose che ho detto prima, le mappe, le registrazioni. Io vengo adesso da un corso che ho insegnato ai ragazzini a fare le audio registrazioni. Le sintesi di storia e di geografia di matematica le faranno in formato audio con Audacity. Allora, vado veloce, si scarica da qua o si scarica dal sito dell'Indire? E il bello di questo lavoro, ha avuto un sacco di successo in internet, eccolo qua il sito dell'Indire, qua c'è il collegamento, ve lo scaricate e ve lo mettete su una penetta. E' stato virale il download di questo lavoro, perché io ho spiegato tutti i software che sono dentro le cartelle, non a parole, ma con un piccolo video. Cioè ho messo i dislessici nelle condizioni di essere pari agli altri, perché loro imparano tranquillamente da un video. Imparano tranquillamente da una sequenza procedurale che non ha la parola scritta come ostacolo. Quindi, se io imbroglio la dislessia, ho bella che è risolta l'inclusione. Bene, questi sono i video. Ah, poi un'altra cosa che ho fatto, è stata anche quella molto interessante, il discorso della chiavetta. La diciannovesima cartella, spostata in una chiavetta, che voi vi procurate, vi crea una chiavetta con tutti questi programmi portabili che vi tenete in tasca. Non so se capite che cosa vuol dire. Voi vi portate in tasca il programma per la lavagna interattiva, cambiate classe e avete il vostro programma con i vostri lavori fatti alla lavagna. Non lasciate i programmi sulla lavagna attaccata al muro quando cambiate classe. Cosa che fate col software proprietario. Ecco perché il software libero serve, per questa cosa della condivisione. Lo usa il terzo mondo il software libero. Guardate chi lo usa il software libero. Notizia di oggi, scoperta, mi ha fatto arrabbiare. Adesso ve la faccio vedere. Il ministero della difesa passa al software libero. Ma non della difesa dell'Uganda, dell'Italia, vero? Mi ha fatto arrabbiare perché milioni di euro risparmiati saranno impegnati in altre cose. Quello che potremmo fare con la scuola. Basta saperlo che esiste il software libero buono, efficiente e efficace. Mi ha fatto un po' arrabbiare. perché noi risparmieremo nella scuola miliardi, credo, o ci andremo vicino, che potrebbero essere investiti in insegnanti, in attrezzature, in porte, in muri dipinti, in bagni puliti, in carta igienica, in vetri, in spifferi, in tutta quella roba lì. E invece paghiamo qualcuno per qualcosa che non ci serve. Siamo alla fine del tempo, credo, o no? Beh, niente, vado al We Can Do. Nelle diapositive a seguire cosa posso fare? Ecco, non fate questa cosa qua. Mettete un po' di orgoglio ai vostri insegnanti di sostegno. Evitate che siano supporter di quello che fanno gli altri. Perché l'insegnante di sostegno, lo dice già la 5.17, è un insegnante del consiglio di classe, è vero? E quindi nella progettazione, secondo me, è lì che viene fuori la possibilità di usare delle azioni. Questa è una tabella che racconta quali sono i software passerella di tutti e due i mondi, Linux, Windows e Mac, perché Windows c'è, è vero? Il 90% dei PC sono Windows, bisogna trovare le passerelle didattiche. E poi, volevo farvi vedere, Sodi Linux ha questa cosa qua, i software di Sodi Linux, questo è quello di Biella, che ha fatto un convegno lì, dentro Sodi Linux, diviso per autismo, sordità, psicofisici, GSA e BS, questi sono i software dedicati a queste tipologie di disabilità che ci sono dentro Sodi Linux. Però volevo dire una cosa, perché anche nella nostra lista, qualcuno mi ha chiesto, ma quali sono i software per l'autismo? Qual è il software per lo psicofisico? Ecco, io vorrei dire questo ai coordinatori, guardate, non esiste il software per una cosa, esiste un'azione didattica che può servire a includere questa cosa qua. Non so se mi spiego. Cioè, il software è un mezzo, non è la pillola o la bacchetta magica. Quando io costruisco didattica, posso farla accessibile o non accessibile. Se la faccio indigesta, non entra dentro il nostro ragazzino. Adesso, nelle diapositive a seguire, che si parte da questa, We Can Do, vediamo se riesco, eccolo qua, vado avanti, perché qua si parla di come si costruiscono i tavoli interattivi, i software speciali, eccetera, eccolo qua, We Can Do, progetto azioni, perché ho poco tempo. Qui, in queste diapositive a seguire, voi troverete almeno sette azioni per poter cominciare. Poter mettere in moto la didattica con il software libero, con quei parametri che dicevo prima, i parametri di condivisione. In particolare, segnalo per la primaria AranWord, un software fantastico, che permette di scrivere per immagini. Ecco, nei video precedenti, che voi non vi ho fatto vedere qua, si fa vedere una bambina dao, che capisce i problemi, che non ho mai capito, solo perché sono stati iscritti per immagini. Cliccate il link e lo vedete. Questo è un bambino singalese, che impara le scienze, saltando il problema e della lingua e della scrittura, semplicemente perché impara per immagini. Ragazzo intelligente, tempo 3-4 mesi comincerà a parlare italiano, lui scrive con tutte curvette e cuoricini una scrittura pazzesca dal nostro tipo di cultura, però ha imparato le scienze cliccando vedrete il video e ha fatto anche la verifica per immagini. Queste sono le proposte poi delle attività di laboratorio che vi proporò. Nelle diapositive a seguire, che voi potrete scorrere, ci sono gli esempi di didattica e non sono esempi di didattica da testo accademico, sono cose fatte in classe con i miei ragazzi, con i colleghi che in 30 anni di insegnanti di sostegno, anzi da 76 sono 34, ho raccolto. Queste sono mappe, verifiche, l'uso della sintesi vocale, come fare le registrazioni, si vado veloce perché mi dispiaceva, questa per esempio è una lezione accessibile che è già online sul mio sito, i miei ragazzi, io sono insegnante di sostegno, faccio le cose per un ragazzo autistico che è in classe, insieme a un gruppetto e poi le divulgo a tutta la classe nel sito di classe, che è, vediamo se ve lo faccio vedere, no questo è il sito di CNR, eccola qua, sito di classe, nel mio sito c'è la pagina riservata alla classe, eccola qui, i ragazzi, abbiamo vinto un premio saremo a Roma domenica, racconta il tuo sport, utilizzando la mappa concettuale, qui dentro noi abbiamo due BES, un Borderline e un DSA, tutti hanno partecipato a questo concorso, abbiamo vinto, hanno inventato filastroche, sono diventati editori di loro stessi, questo è il sito della classe, è esempio vissuto, loro cliccano qua e scaricano i lavori che facciamo, fatti con Sancorelle, preposizioni in inglese, l'acqua, la terminologia, questo è ben appena fatto, è in inglese, cliccando, facendo così, scarica e loro a casa possono vederlo, io non dico che si debba arrivare a questi livelli, non è facile per voi imparare ad usare i programmi, ma questo significa condividere, adesso è partito dall'altra parte, lo vedete? Questo è il lavoro dei ragazzini fatto con Sancorelle, loro qua c'è il testo, qua devono mettere le immagini, qua devono mettere le parole, qua devono ricordare in questa tabella i valori, spostandoli, e in quella dopo qua ascoltano l'inno, lo suonano e lo leggono, questo l'abbiamo fatto in classe finché c'era la lezione di inglese, aspetta che chiudo, no perché dopo mi serve per spiegare un'ultima cosa, Sancorelle è un programma per la LIM che i ragazzi hanno e usano a casa, cioè elaborano i lavori che abbiamo fatto a scuola, capite? Questo è Impress, programma per fare presentazioni, non ha tutte le animazioni di PowerPoint, ma ce l'hanno tutti i ragazzi, a prescindere se hanno XP, Vista, 7, 8 o 10, o Linux o Mac, questo significa transito della didattica, quindi non è una scelta di filosofia religiosa, è una scelta di pratica anche, una scelta di pratica e buone prassi. Questo è un piccolo testo che ho fatto per la provincia autonoma di Trento, chi è interessato della primaria è la conquista della lettoscrittura con le attività digitali, l'interessante di questo piccolo testo è che io vado a indagare quali sono i preliminari per la lettoscrittura e propongo delle attività digitali per conquistarli rispetto alle abilità necessarie a leggere e scrivere. La teoria di riferimento è quella della Ferrara Teberowski, che cerca di studiare e indagare come i bambini per via naturale imparano a leggere e scrivere, e quindi è tutto un lavoro di rinforzo, perché mi avevano chiesto di portare i software compensativi per i DSA, però io sono stufo di portare i software compensativi per i DSA, perché io penso, e qua si registra per cui è chiaro, che un po' di DSA li procuriamo noi a scuola perché corriamo troppo e arriviamo a far fare alla infanzia quello che dovrebbe fare la primaria. La primaria in quinta elementare fa statistica, le frazioni fa cose che dovrebbe fare le medie e le medie fanno gli studi di funzione in terza media che dovrebbe fare le superiori. Se ognuno facesse il suo mestiere, secondo me sarebbe molto meglio e avremo molti meno DSA e disturbi di apprendimento. A Verona qua è così, non so se a Roma è diverso. Vi ringrazio. Sì, ognuno faccia il suo mestiere e guardi se si lascia indietro troppi morti, perché quando un ragazzino fa fatica e si affatica a quattro anni, l'idea della fatica ad apprendere diventa più forte del piacere di apprendere. E la curiosità al conoscere che un bambino ha innata diventa dolore. Quando il dolore ti stringe la pancia e ti fa fare la cacca a scuola perché hai la verifica. E se non bisogna farsi qualche domanda, vero? Cioè, insomma, ci picchia. Bene, questi sono tutti esempi di didattica vissuta, il libro tagliato, fare i cartoni. Seguitevi, sono tutti esempi che io lascio un po' come eredità perché dopo 30.000 anni di scuola ho la presunzione di insegnare qualcosa. Quindi la mia presentazione in realtà è un po' presentazione e un po' una guida. Questa è una video lezione fatta da un dislessico che sbaglia a spiegarlo ma fa il minimo comune multiplo. Ed è perfetto questa cosa qua perché il dislessico non te lo sa scrivere, non te lo sa dire, ma lo sa fare. Mi spiego? E questa è una lezione di vita sulla dislessia. Cioè, te la dice sbagliata ma la fa giusta. E se uno dà il voto alla definizione, gli dice tu non lo sai fare. Come si fa le video lezioni, come si mette sul cloud e siccome ho poco tempo arrivo velocemente ai saluti che sono, vedete, tutto è pronto. Ah, questa è su Araward, è fantastico, non ho tempo di spiegarvelo ma guardatevi il webinar. Si può insegnare per immagini e per immagini si possono fare un sacco di cose. Il tempo stringe. Il sito di Sodi Linux del CNR è questo. Chi mette Sodi Linux non ha abbandonato se stesso. Abbiamo una lista di mille insegnanti. Sodi Linux è sviluppato da me insieme a quelli del CNR e adesso abbiamo un gruppo di supporto abbastanza grosso. Stiamo anche raccogliendo dei soldi e vi chiederai gentilmente di donare qualcosa perché il MIUR ci ha tagliato le gambe. L'anno scorso ci ha dato più di 30 mila euro, quest'anno neanche una lira e c'è il rischio che non riusciamo a sviluppare il programma per la comunicazione aumentativa. Italian Linux Society ha offerto l'appoggio economico a questa idea di software libero. Se volete donare anche 5 lire, no 5 lire no, cliccate donazioni linux.it, guarda che forte, abbiamo preso già 480 euro. Si chiama crowdfunding. Quando una cosa è importante e interessante, la gente mette qualcosa entro un mese di raccogliere. 3000 euro ce li dà, giusto per capire cosa significa questa cosa. Adesso vi faccio vedere il programma che noi abbiamo sviluppato, istruzione AraWord. AraWord è un programma che permette di scrivere per immagini e anche leggere quello che scrivi per immagini. Lo sviluppatore che ci ha sviluppato la sintesi vocale per reggere AraWord ha chiesto 2000 euro. Noi con 2000 euro abbiamo dato un programma per la comunicazione aumentativa a tutta l'Italia. La casa di mia mamma è al mare. Capito? Capiscono tutti questa roba qua. Ascoltiamo, non so se la sentite. La casa di mia mamma è al mare. L'avete sentita? Eh perché la sintesi ce l'ho in cuffia io. Bene, avete 6 lingue, potete inserire le immagini che volete e con pochissimi soldi abbiamo diffuso questa cosa in tutta Italia. E non l'abbiamo diffusa per Linux come qualcuno pensa e ci accusa di essere talebani. L'abbiamo sviluppata per qualsiasi sistema operativo, Mac compresa, progetto AraWord, download, perché la filosofia non è quella di portare avanti Linux, ma è portare avanti il software libero. Vedete, link per Linux, link per Windows, link per Mac. Mi spiego? Questo è il valore dare a tutti un'opportunità di capire e di giocarsi la partita dell'apprendimento. La partita dell'apprendimento si gioca, a nostro avviso, se abbiamo la possibilità di dare a tutti uno strumento di condivisione. E lo strumento di condivisione è, secondo noi, adesso non c'è altro, è il software libero, l'attrezzatura libera, oltre alle pratiche che servono ad agire. e purtroppo non ho più tempo, ma questa è la nostra prospettiva e io vi ringrazio per l'attenzione, perché penso di aver sfondato il tempo e mi stanno aspettando. Allora Francesco, si stanno applaudendo, non so se lo senti. Sì, io vi ringrazio, ma spero di non avervi massacrato perché. Ti ringraziamo tanto, sei stato molto carino e speriamo di portare avanti questa... perché a settembre, insomma, ti inviteremo comunque qua sempre per il corso per ricordare di insegno. Sì, è fantastico. Io vi ringrazio. Credo che non ci sia tempo per domande o un certo feedback, però ci può essere online attraverso le email, ci può essere attraverso il sito e attraverso il sito mio c'è la possibilità di... insomma, chi crede particolarmente nelle cose che ho detto, di iscriversi. Cioè, il sito ha una... questa è la parte della pagina della mia classe che ogni anno io cambio o secondaria classe che ho. Cioè, iscriviti al sito e quindi li collego la mailing list del software libero di Sodi Linux. Siamo circa mille insegnanti in Italia e abbiamo documentato 10.000 installazioni, download dal sito, di gente che sta usando Sodi Linux. Anche associazioni, addirittura scuole in Brasile, perché Sodi Linux potete installarlo in qualsiasi lingua. Se avete bambini portoghesi, danesi, inglesi, cinesi, l'interfaccia di Sodi Linux può essere in qualsiasi lingua. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo è il sistema operativo che sto usando in sto momento. Questo è il menu e questi sono i software. Sembra XP, solo che abbiamo lasciato in alto la barra, perché qui in basso c'è la Hockey Station, che voi non vedete, perché è quella bassa, quella come ha il Mac. E basta, non dico altro, perché sono fuori tempo e credo ampiamente e me ne scuso. Grazie Francesco, è stato gentilissimo. Grazie. Arrivederci e a risentirci. Bene, chiudo la presentazione e la troverete... Grazie a tutti.